Dopo diversi giorni senza nuovi contagi, tornano a registrarsi nuovi casi di soggetti positivi al coronavirus nella città di Sciacca. Sono sette quelli annunciati oggi dal sindaco Francesca Valenti e che portano il totale degli attuali contagiati, dunque a 38. Le sette persone che hanno contratto il virus sono di svariate fasce di età, ha riferito il primo cittadino. Nuovi casi che non figurano chiaramente nel bollettino dell'ASP, anche perché l'ultimo report dell'azienda sanitaria provinciale è quello di ieri e fa riferimento alla situazione aggiornata al giorno precedente, cioè a sabato 14 novembre. Un bollettino che riporta i nuovi positivi in provincia, 55, ma non il numero dei tamponi effettuati, 6 nuovi ricoveri e 3 decessi. Ma anche quello dei ricoveri non è un dato attendibile ed aggiornato, se si considera che a parte due ricoveri in più al San Giovanni di Dio di Agrigento, dove i pazienti adesso sono 35, per l'ospedale di Sciacca viene riportato un numero invariato di persone ricoverate rispetto alla data del 13 novembre, quando invece nel fine settimana ci sono stati altri due decessi al Giovanni Paolo II. Si tratta di due anziani, un uomo di Caltabellotta di 87 anni e un altro di Serra di Falco di 80 anni, che erano ricoverati da alcuni giorni nel reparto di terapia intensiva. Decessi che hanno portato a 4 il numero dei morti in due giorni all'ospedale di Sciacca, dopo l'anziana saccenza di 87 anni e un'altra di 93 anni di chiusa sclafani. Anche all'ospedale di Agrigento nelle ultime ore c'è stato un decesso, quello di una donna di 72 anni di porto empedocle, anche lei positiva al coronavirus. In questo caso i familiari hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica. Per ciò che concerne i contagi, altri tre casi di positività sono stati riscontrati nel comune di Santa Margherita Belice. Ad annunciarli è stato il sindaco Franco Valenti. Si tratta di un uomo di 48 anni e di un bambino e di una bambina di 3 anni, che erano stati sottoposti nei giorni scorsi prima a tampone rapido, poi a quello molecolare in quanto alunni di una classe della scuola dell'infanzia interessata da un altro caso di positività. Con questi nuovi tre casi Santa Margherita sale a 58 persone attualmente contagiate. Altre tre persone sono risultate positive al Covid anche a San Buca di Sicilia. Due nuovi casi a Montevago, dove adesso i positivi sono nove. Per uno dei due si è reso necessario il ricovero nel reparto di medicina Covid del Giovanni Paolo II di Sciacca. L'altro soggetto è invece asintomatico, ha riferito il sindaco Margherita Larocca Ruvolo. Un altro contagio da coronavirus è infine a Caltabellotta, dove adesso i casi accertati sono 14. Fin qui dunque le novità che riguardano questi comuni e che non figurano nel bollettino dell'ASP. La situazione a livello provinciale resta assai critica a Canicattì, che ha raggiunto quota 135, ma anche a Palma di Montechiaro, dove con 12 nuove persone contagiate il numero degli attuali positivi adesso è 57. E a Favara, con sei nuovi casi, per un totale di 63 soggetti positivi al Covid. In crescita anche il dato di Aragona, che passa da 25 a 29 persone contagiate, e di Grotte, che registra sette nuovi contagi per un totale di 25. èúsено, che è la sua campagna che talk approximationi al comma 5, È stato in giro immigrati, che legge laislazione di Aragona, cheμα e che s'è più più ricordato. Con sei negotiate chiple colore può essere consig Grazie a tutti